Welcome back, sconaggia che grossari, sempre io, Ambro, e oggi, prima di iniziare la campagna, perché voglio aspettare le famose uscite, le uscite che usciranno, prestissimo usciranno, 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 presto, 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 su, qui, sui prossimi schermi, perché ci saranno Wolverine, Storm, Emojo, lo scenario. Quindi prima di iniziare la campagna, perché voglio scegliere il personaggio giusto, quello che mi piace di più, quello che mi è ispirato di più per affrontarla tra quelli che usciranno di questa wave degli X-Men, faremo una partita per testare il mazzo di Shadowcat. Prima di iniziare però, vi ricordo di iscrivervi al canale Giochi Corsari, così non vi perdete nessuno dei nostri video. E oggi Shadowcat, con un mazzo custom, un mazzo che ho fatto io, affronterà UD, e lo affronterà come piace a me, utilizzando tutti i set modulari del gioco, che per adesso siamo arrivati a 59, con gli ultimi della Genesi Mutante, con i contenuti in Genesi Mutante. Ma prima di settare il mazzo del criminale, andiamo a guardare il nostro mazzo, quello dell'eroe. Allora, Shadowcat, che è Kitty Pryde. Kitty Pryde ha recupero 3, preparazione, metti in gioco la miglioria sembianza di massa, con l'atto solida, eccola qua. Controllo della fase, assumi l'altra sembianza, quindi è un altro di quegli eroi che gioca molto con le sembianze. Due intervento, due di attacco, due di difesa. Mentre sei nella sembianza di massa incorporea, Shadowcat ignora le parole chiave, guardia e pattuglia, e le icone crisi in gioco. Solida, permanente sembianze di massa. L'esposto eroi usa, genera una risorsa fisica per un evento attacco-difesa. Dopo che è attaccato difeso, mentre sei in questa sembianza, gira questa carta. Incorporea. Sembianza di massa, mentre Shadowcat, hop, caduta, mentre Shadowcat sta difendendo, non può subire danni. Dopo che hai attaccato o difeso, mentre sei in questa sembianza, la giri sull'altro lato. Quindi lei passa costantemente da solida a incorporea. Le sue 15 carte, che avevamo già visti nello spoiler di Genese Mutante, quando abbiamo fatto anche l'unboxing. Quindi se non l'avete visto, andate a recuperarvi il video. E l'ho mantenuta offensiva. Allora, abbiamo due poteri dell'offensiva. Tre, assalto implacabile. Due, colpo perforante. Un, addestramente, arte del combattimento. Dust, magic, Wolverine. Ovviamente l'ho fatto basato sugli X-Men, sui mutanti. Genialità, energia e forza con le nuove art. Concentrazione immediata, perché lei ha tanti superpoteri. Resistenza fisica. Tre, pronto a darci dentro, perché cambiando sempre di sembianza questa risulta molto utile. X-Jet. Villa X. Angelo. Professor X. Colosso. E Tempesto. Questo è il suo mazzo. Ma andiamo a vedere Ud. Eccolo qua. Ud è uno di trama, uno di attacco. Giocare sporco. Scarta una carta alla cima del mazzo di un incontro. Se quella carta non appartiene a sette di Ud, distribuiscila in carta incontro a te stesso. Nella parte due, invece, scarta due carte. Ok? Allora, perché usiamo tutti i sette modellari con Ud? Perché Ud, nella sua trama principale in preparazione, dice Contenuto Ud, uno o due. Noi giochiamo in standard, quindi va bene così. Sette di incontri, Ud, che è qua. Sette di incontri standard, ovviamente con l'incommenza di Kitty. Preparazione. Scegli sette sette di incontri modulari e metterli da parte. Noi non ne scegliamo sette, noi ne scegliamo cinquantanove. Mescola nel mazzo degli incontri uno di essi casuale. Quindi adesso andiamo a sceglierlo. Voilà. Prendiamo la nostra tabellina. Ok? Tiriamo un dado da 4, che è qua, per la colonna. E un dado da 20, invece, per le righe. Va fino a 15, quindi quelli superiore a 15 verranno ritirati. Voilà. Effettivamente qua c'è un 19, va ritirato, ma la colonna sarà numero 4. Tiriamo. 6. Quindi 4, 6, Enchantress. Qui andiamo a prendere Enchantress. Eccola qua. Enchantress. E la aggiungiamo e la mischiamo al mazzo. Questo è il primo set modulare che noi inseriremo nel mazzo di Ud. Durante il gioco Ud riceverà anche altri set modulare. Speriamo non tanti, ma così sarà. Allora, queste vengono mescolate per bene. Poi abbiamo la preparazione qua, che giriamo, abbiamo finito. Quando rivelate in ordine di gioco, ogni giocatore deve risolvere la capacità di giocare sporco. Quindi, prima mescoliamo bene. Prendiamo. Punti feriti di Ud, che sono 14. Voilà. Lo mettiamo qua. Poi, andiamo un po' più in qua, non si vede meglio. Fatto. Una iniziale. Questo è un attimo via. Mescoliamo. Per bene. E riveliamo. Scartano una carta d'alcino nel mazzo. Vediamo, speriamo che sia appartenente a Ud, che non la mettiamo come carta incontro. Se no, sarà la nostra prima carta incontro. Voilà. Giriamo. E di Ud ci è andata molto bene. Allora, mettiamolo qua. Questa viene scartata. Kitty in campo. Sembianza solida in campo. Mescoliamo. Lei ha 9 punti ferita. Allora. 9. Punti ferita. Mescoliamo per bene. Voilà. Fatto. Peschiamo. Fino ad arrivare a 6, che è sul limite di carta in mano. Angelo. Resistenza fisica. Concentrazione immediata. Controllo totale. Locked. E assalto implacabile. Allora, in realtà possiamo togliere l'assalto implacabile. Tutto il resto ci piace un sacco, quindi peschiamo ancora una. Stanza di Kitty. Anche questa è bellissima. E quindi iniziamo. Allora, dobbiamo fare delle scelte. Angelo è molto forte, ma secondo me in questo momento dobbiamo usarlo come risorsa. E giochiamo la stanza di Kitty. Cura due danni se siamo insolida, se no incorporea pesca una carta. Allora, usiamo la sua abilità per trasformarci in incorporea. Utilizziamo stanza di Kitty per pescare una carta. Professor X. E questo non è per niente male. Anche se non possiamo, cioè adesso dovremo fare altro. E l'altro da fare sarà sicuramente sistemarci un pochettino per i turni dopo. Quindi la prima cosa da fare è Professor X e giochiamo Resistenza Fisica. Resistenza Fisica ci dà 3 punti ferite in più. Andiamo a 12. Poi utilizziamo lo Kid per giocare Concentrazione Immediata. Esaurisci Concentrazione Immediata e riduci di 1 in costo e risorse della prossima carta Super Potere. Solo se siamo in eroe. Adesso diventiamo eroe. Utilizziamo Concentrazione Immediata per giocare, che è un superpotere, quindi gratuitamente, dopo che è il controllo totale, dopo che è il controllo totale, dopo che è la parola chiave Guarda e pattuglia su un Gregario e esaurisci. E Figgi due anni per il Gregario. Ok. Ci siamo belli sistemati. Abbiamo perso 3 alleati, ma era meglio sistemarci un pochettino. Se adesso noi attacchiamo diventiamo solidi, ma si attacchiamo. Voilà. Attacchiamo e portiamo a 12 il nostro caro amico Ud. L'abbiamo attaccato e quindi giriamo in solida. Finito. 5 carte in mano. Colosso. Transazione rapida. Assalto implacabile. Pronta a darci dentro. E colpo incorporeo. Allora, ripristiniamo una minaccia sulla trama principale. Ud ci attacca. Se noi difendiamo diventiamo incorporei. Ci può anche stare quasi quasi. Dai, difendiamo. Lui ci attacca di 1. Rivela questa carta. P1, 2. È la pistola che viene assegnata a Ud. Non subiamo danni, ma visto che abbiamo difeso, diventiamo incorporei. Carte incontro per noi. Sopravvento. Quando rivelata Ud trama, se siamo in alter ego, Ud ti attacca. Quindi, prima ci attacca e poi risolviamo giocare sporco. Quindi, prima ci attacca. Ci attacca di 2. E questi di quasi quasi, no. Facciamo così. Ci sta attaccando. Usiamo transizione rapida. Quando un nemico attacca, se sei nella sembianza di incorporei, peschiamo 2 carte. Quindi, peschiamo transizione rapida e camminare nell'area. La rifacciamo. Un'altra iterazione eroe. Peschiamo 2. Pronto a darci dentro. È confuso e sfasato. Ci attacca di 2. Più carta. 2 danni soli. Andiamo a 10. E risolviamo la capacità giocare sporco. Scartiamo la prima. E di Ud, quindi non succede niente. È il nostro turno. Vabbè, non ci è andata così male. Allora, prima di tutto, usiamo una risorsa per giocare, pronto a darci dentro. Poi, questi sono tutte forti. Allora, 3 risorse. Sì. Utilizziamo 3 risorse per giocare colpo incorporeo. Infliggi 6 danni a un nemico. Se hai una sembianza di massa incorporea, cosa che siamo, puoi scartare un'aggiunta con il testo, azione eroe e risposta eroe. Questa è un'aggiunta. Quindi facciamo 6 danni e scartiamo la pistola. Questo è molto forte. 6 danni e lui va a 6. Abbiamo giocato un evento attacco. Cambia la sembianza e diventa solida. Essendo che abbiamo cambiato la sembianza, scartiamo pronto a darci dentro e ripristiniamo il nostro eroe. Ah, era un superpotere? Sì, era un superpotere. Quindi possiamo giocarlo con una risorsa in meno. Ma sono sbagliato. Usiamo la concentrazione immediata. A questo punto siamo diventati solidi. No, giochiamo un'altra risorsa. Giochiamo pronto a darci dentro. Attacchiamo di 2. Portiamo a 4 il nostro amico, caro amico Ud. E visto che abbiamo attaccato, diventiamo incorporei. Peschiamo fino ad arrivare a 5. Quindi, energia, interferenza intangibile, arte del combattimento, genialità e pronto a darci dentro. Ripristiniamo. Potremmo fare altri due danni, ma voglio tenermelo per il turno dopo, che è molto più forte. Minaccia sulla trama principale. E siamo a 3. Ud ci attacca. Difendiamo o non difendiamo? Ci penso un attimino. Direi che possiamo difenderci, sì. Ci difendiamo. Sono 1, 2, 3. Non possiamo subire danni perché siamo nella sembienza incorporea. Quando abbiamo difeso, giriamo in solida. Scartiamo pronto a darci dentro e ci ripristiniamo. Perché abbiamo cambiato sembianza. Carta d'incontro per noi. Assegna Ud. Ud ottiene ritorsione 1 e Tempra. Azione eroe, spendi 1 per tipologia per scartare questa carta. Ritorsione che quando non gli facciamo danni, se non viene sconfitto, ci fa un danno indietro. E invece Tempra è che ha bisogno di due carte status o confuso o stordito per essere rispettivamente confuso o stordito. E' il nostro turno. Allora. 1, 2, 3. Sarebbero interessanti da giocarci per togliere il mantello di Ud. Ah, scelte difficili. Possiamo anche lasciare il mantello. E via. Allora. Iniziamo a fare una cosa. Due risorse e giochiamo la miglioria che ci dà più un attacco. Quindi abbiamo più tre ferite e più un attacco. Più tre ferite e un attacco, sì. Poi. Giochiamo pagandolo un po' di più. Anzi, no, 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 abbiamo superpotere. Concentrazione immediata per giocare interferenza intangibile. Dopo che hai ignorato l'icona crisi su una trama, esolisci interferenza intangibile e rimuovi due minacce da quella trama. Che non è male. Adesso quasi quasi, con due energie, giochiamo pronto a darci dentro. Pronto a darci dentro ci fa attaccare Ud di due. Va a due, non è stato sconfitto, abbiamo ritorsione, andiamo a nove. Cambiamo sembianza e diventiamo incorporei. Scartiamo pronto a darci dentro per ripristinarci. E interveniamo di due sulla trama principale. Fatto. Peschiamo fino ad arrivare a cinque. Ah, scusate, mi attacchiamo di tre, perché è più un attacco, ma lo sono dimenticato. E lui va a uno. Peschiamo. Sorprese di Shadowcat. Colpo perforante. Colpo incorporeo. Wolverine. E potere dell'offensiva. Ripristiniamo. Minaccia sulla trama principale. Ud ci attacca. Noi difendiamo. Quindi ci attacca di uno, due. Non subiamo danni. Diventiamo solidi. Carta d'incontro per noi. Ambizione sfrenata. Ostacolo due. In ordine di gioco, quando la fase decriminali inizia, ogni giocatore deve risolvere la capacità di giocare sporco. Quindi a quattro. Tre e uno, quattro. E il nostro turno. Allora, vediamo un po' di fare cose interessanti. Questa è un po' sprecata. Però dobbiamo farla per forza. Superpotere. Costa uno in meno. Usiamo la risorsa di solida. Per giocare. Sorprese di Shadowcat. Facciamo tre danni a un nemico. E ripristiniamo il tuo eroe. Quindi tre danni a Ud. Che viene sconfitto. C'è il primo stadio, diciamo. Viene ripristinata. Scusatemi. Viene ripristinata Shadowcat. E diventiamo incorpori. Perché abbiamo giocato un evento attacco. Lui passa. E diventa. Quando rivelata, mescola nel mazzo degli incontri. In un set modulare messo da parte casuale. Quindi. Andiamo a prendere la tabellina. Che è qua. Tiriamo i ladini. 18 dobbiamo riterarlo. Ma siamo sulla colonna 3. Eccolo qua. Vedete. Colonna 3. 16. Non si può fare. 19. Non si può fare. Posso tirare un po' più basso. 15. Colonna 3. 15. Futuro. Passato. Qui andiamo a prendere futuro passato. E lo andiamo a inserire. Eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5 di futuro passato. Viene mescolato. All'interno. Ecco. Così siamo anche a tema. Dobbiamo togliere anche quella ambizione sfrenata. Perché è davvero davvero tosta. Lui adesso ha 16 punti ferita. Vediamo un po' di fare due conti. Adesso gli mettiamo 16 punti feriti innanzitutto. Quattro. Fatto. Possiamo o giocare Wolverine. Che potrebbe non essere male. Questo ci protegge un pochettino. Solo che ha solo uno di purtroppo. Se no possiamo togliere il mantello facendogli 6 danni. Che anche questo non è male. Col colpo incorporeo. Posso anche decidere di Sì posso anche quasi quasi decidere di non di non ignorare queste qua e andare avanti per la mia strada. Quindi per esempio Shadowcat attacca di 3 wood. Va a 13. Ritorsione. Andiamo a 8. Diventiamo solidi. Adesso utilizziamo. Però questa era l'utilizzata quindi era così era esaurita. Perché prima l'ho utilizzata per giocare. Sorpresa. Quindi adesso utilizziamo. O li facciamo 3 risorse e togliamo Perforante. O utilizziamo queste 3 carte per togliere quella. non è più forte fare questo. Usiamo 3 risorse per giocare colpo incorporeo. Ah no però non siamo più incorporei. Cavoli. Anzi. Torniamo in attimo indietro. Scusateci. Scusatemi. Siamo così. Lui è a 16. Perché noi siamo incorporei. Ok. Mette il 7 modulare e mi ha scombusolato un pochettino. Usiamo 3 risorse e giochiamo colpo incorporeo. Infliggi 6 danni a un nemico. Se sei una sembiazza di massa incorporea. Quello che siamo. Togliamo un'aggiunta. Quindi 6 danni a lui e si toglie questo aggiunto. Quindi lui va a 10. A questo punto noi diventiamo solidi. Perché abbiamo attaccato. Riattacchiamo. Lo portiamo a 8. E torniamo a essere incorporei. Tutto chiaro? Sì. Ripristiniamo. Peschiamo fino ad arrivare a 5. 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Assalto implacabile. Villa X. Forza. Sorpresi di Shadowcat. E confuso e sfasato. Lui va a 7. Perché noi abbiamo più un attacco. Me lo dimentico sempre. Allora. In ordine di gioco. Quando la fase del criminale inizia. Quindi in questo momento. Dobbiamo risolvere il giocare sporco. Che in questo caso è scarto 2 carte. Dalla cima di animazione di incontro. Li distribuisci come carta di incontro. Te la faccio in giù a te stesso. La prima carta scartata. Che non è del set di Hood. Quindi scartiamo 1. E diventa carta di incontro per noi. Che è incantatrice. Scartiamo 2. E via. A questo punto mettiamo una minaccia. Sulla tema principale. Hood ci attacca. Vogliamo difendere? Sì. Difendiamo. Ci attacca di 1. Distribuisci questa carta incontro. Faccia in giù a te stesso. Non male anche questo. Quindi c'è tacca di 1. Noi non subiamo danni. Però diventiamo solidi. Carta incontro. E siamo a 3. Beh 2 le conosciamo. Allora. Ce la facendo sudare questa partita. Tiriamo la prima. Incantatrice. Quando rivelata. Cerca nel mazzo degli incontri. Nella pia degli scarti. Nell'incontri. Nelle carte messe da parte. Un sedotto. E assegnalo alla tua identità. Quindi. Nella pia degli scarti. Nell'ammazzo degli incontri. Sedotto. Eccolo qui. Assegna la tua identità. Non puoi effettuare attacchi basi. O giocare a carta evento. Alzione del te rego. Spendi una risorsa energetica e una mentale per scartare questa carta. Bene. Non benissimo. Potremmo sconfiggere adesso Ud. Invece è un dramma. E quindi incantatrice qua. Prossimo. Bastion. 2 di trama. 2 di attacco. 10 ferite. Criminosa. Robustezza. Vittoria 1. Tanto per non farci mancare niente. Voilà. E l'ultimo è? Madame Musk. Ale. Guardia. Risolve la capacità di giocare sporco di Ud. Quando rivelata. 4 ferite. 1 di trama. 2 di attacco. Non male. Quindi. Giocare sporco. Giriamo la prima e di Ud. E giriamo la seconda. Questa viene rivelata. Considera l'alleato con questa aggiunta come un gregario asservito. Vabbè. Quando rivelata. Assigna questa carta all'alleato con il costo più alto. Altrimenti questa carta ottiene impulso. Non ci sono alleati. E quindi ottiene impulso. Voilà. Nimrod. 9 ferite. Stabile. Vittoria 1. Non può subir più di trama in ogni fase. 2 di trama. 3 di attacco. Bene. Guardate un po' cosa è successo qua. E come sono messo io. In un turno è cambiato tutto. Allora. Noi non possiamo usare né attacchi. Quindi. Possiamo fare ben poco. Perché non possiamo attaccare. Non potendo attaccare. Non possiamo usare le carte che abbiamo in mano. Perché abbiamo 6 ed 8. In campo. Allora. Facciamo una bella cosa. Diventiamo. Alter Ego. Perché tanto questo così va bene. Dopodiché. Diventiamo. Incorpori. E con la stanza di kitty. Peschiamo una carta. Tempesta. Ecco. Già questa ci piace. Dobbiamo utilizzare una mentale e una energetica. Ecco qua. Mentale e energetica. E scartiamo. Sedotto. Voilà. Dopodiché. L'amica qua costa 4. Sì. Usiamo 4 risorse. 2 fisiche più altre. 2 normali. Per giocare. Tempesta. 2 di intervento. 2 di attacco. Se la tua identità possiede il tratto mutante. O X-Man. Riduci di 1 il costo. Per giocare Tempesta. Fatto. Quando Tempesta interviene su una trama. Sposta 2 minacce da quella trama. Su un'altra trama. Allora. O intervengo. Che ci potrebbe stare. Ma tanto. Poi qua. Tramano tutti. Quindi è un dramma. Questo trama. Questo trama. Questo trama. Questo trama. Però. Mettere 1. Lui trama solo di 2. Questa fa passare. Questi fanno passare tutto. Quindi ci conviene attaccare. Su. Madame Mask. Che è quella con guardia. Sì. Sì. Attacchiamo Madame Mask. Gli facciamo. 2 danni. E un danno. Su Tempesta. Finito. Peschiamo fino ad arrivare a 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Eccolo qua. Abbiamo. Camminare nell'aria. Potere dell'offensiva. Magic. Dust. Colpo perforante. E sorpresa di Shadow Cat. Ripristiniamo. Fase principale inizia. Scartiamo 2 carte. Sopravento. E avanzamento. Il criminale trama. Questa viene messa davanti a noi come carta incontro. Una minaccia sulla trama principale. Wood. Trama. 2. Miliardi. E passiamo di trama. Andiamo verso una promessa di prosperità. Bando rivelata. Mescola animazione di incontri. Un set di incontri modulare messo da parte. Coloca un gettone di accelerazione sulla trama principale. Adesso mescoliamo. Allora. Un set e accelerazione. Vediamo subito. Questa è la manovia. Un'accelerazione che prendiamo subito. Qua. Voilà. Aspettate che lo prendo. Se no. Quindi questa va sicuramente sulla trama principale. Poi. Scegliamo un altro set modulare da mescolare. Tabellina. Dadini. 1. 9. 1. 9. Temporale. Che è quella di Kang. Quindi. Temporale. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Temporale. Fatto. Questa è la parte. Lei ha una ferita. Queste vengono mescolate nel mazzo. Giriamo la trama. Che dice. Quando rivelato. In ordine di gioco. Un giocatore risolve la capacità di giocare sporco di Hood. Per ogni giocatore che non ha distribuito carte in contra. Fa change giù a se stesso. In questo modo colloca due minacce su questa carta. E parte con due. Allora. Giriamo. Prima. Eccola qua. Seconda. Viene scartato. Quindi questa è un'altra carta di incontro. Lui ha fatto quello che doveva fare. Incantatrice mette due trame. 4. Più carta. Perché è criminoso. Quindi. Siamo a 6. E quindi. 6. Più 2. 8. Passa anche questa trama qua. La mandiamo via. Perché ne va a 2 di base. E giriamo. Impero. Criminale. Mesco nel mazzo di incontro. Un set. Incontro. Il modulare è messo da parte. Colloca un altro getto di accelerazione. In ordine di gioco. Ognun giocatore deve risolvere la capacità di giocare sporco. Quindi. Altro gettone accelerazione. Sta diventando un po' difficile la situazione qua. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Altro gettone accelerazione. Altro set modulare mischiato da parte. Allora. La 3. Con il 20 che bisogna ritirare. Hop. 18. Niente. 10. Quindi 3. 10. Street of Mayhem. Quindi prendiamo qua. Andiamo a cercare. Street of Mayhem. Ecco qua. 1. 2. 3. 4. Fatto. A posto. Mescoliamo queste. E risolviamo la capacità di giocare sporco. Quindi 2. E la prima va. Che riveliamo che non è il suo set. Va messa. Mescoliamo. E riveliamo. La prima viene messa qua. La seconda viene scartata. Ombra dal passato. Meno male. Ci mancava ancora quelli. Ok. Quindi. Questa viene girata. E siamo a 3. Quindi non risolvere ancora loro 2. Quindi sono 6 minacce in tutto. su 10. Perché sono trama 1 e trama 2. Ok. Carta d'incontro per noi. Vediamo cosa succede qua adesso. Sono 4 da risolvere. La prima la sappiamo. Il criminale trama. Trama di 2. Sei stordito. Non male. Anche questa non è che proprio ci voleva. 2 più 1. Solo 2. Quindi va a 8. 8 su 10. Giriamo l'altra. Impulso perché siamo in altre ego. Soldato Chitauro. 1 di trama. 1 di attacco. Temporale. 3 ferite. Quando Soldato Chitauro si attacca. Scarta una carta d'accello del mazzo di incontro. E subisce i taino indiretti. Però per adesso è lì. Prossima. Macchinazioni di Bastion. Vittoria 1. Quando rivelata. Ogni giocatore colloca 9 carte alla cima del proprio mazzo a faccia in giù sotto questa carta. Noi ne possiamo mettere solo una. Messa qui sotto. La faccia in giù. Ok. Dà anche un icone a potenziamento. Prendiamo una carta incontro in più perché abbiamo finito il nostro mazzo e dobbiamo mescolare. Potrebbe andarci peggio ma non si sa ancora perché non hanno ancora finito le altre due carte incontro. Di cui una dovremmo saperla ancora ma l'altra non la sappiamo. Giriamo la prossima. Encava e clandestina. Impulso. Non male. Ambiente. Quindi rimane in campo. Quando rivelata scarto ogni altro ambiente e scena in gioco. Ogni personaggio in gioco riceve più un attacco. Non male. Quindi un ambiente che rimane in campo. Queste due sono qui sopra. E ha impulso. Giriamo. Zone industriale. Impulso. Scarto ogni altra scena. Ogni personaggio in gioco ottiene tempra. Giriamo. Guerriero antico. Colpo rapido. Siamo in alter ego. E quindi non succede niente. Mi sa che c'è un po' troppa gente. E' qui sopra. Prossimo. Assume le tue sombazze di mazza in corporea. Ce l'abbiamo già. Non puoi attaccare, difendere o cambiare sembianze di massa. Esaurisci Kitty Pryde e rimuoi dal gioco. Incorporità permanente. Ci voleva anche lui eh. Nel mentre. Allora. Ha finito. Finalmente. Tocca a noi. Vediamo se riusciamo a fargli questi maledetti sette danni. Ah. Scusate. Qui non ho messo le sei minacce. Allora. Il problema è che bisogna togliere prima questa. Esaurendo lei. Allora. Esauriamo lei. E togliamo incorporabilità permanente. Via. Fuori dal gioco. Poi siamo in corporei. E peschiamo una carta. E' sorpresa di Shadow Cat. Ecco. Questa ci andava bene eh. Adesso. Cambiamo sembianza per l'abilità di Kitty Pryde. Diventiamo Shadow Cat. Utilizziamo con due risorse il colpo perforante che è l'attacco. Se no ci togliamo stordito. Via. Questa ha guardia. Quindi. Tempesta. Attacca Madame Musk. Che ha guardia. Il giocatore deve risolvere la capacità di giocare sporco. Quindi scartiamo la prima. Che verrà messa davanti a noi. E scartiamo. Oh. La seconda. Un danno a tempesta. Solida. Più concentrazione immediata. Qua non c'è nient'altro che possiamo che ci blocchi. E giochiamo. Sorpresa di Shadow Cat. Tre danni al nemico e ripristino il tuo eroe. Uno in meno e uno per solida. Quindi. Ripristiniamo il nostro eroe. E facciamo tre danni a Wood. Che va a quattro. A questo punto. Attacchiamo con Shadow Cat. Wood. Che va a uno. Allora scusate. Quindi questa qua diventa solida. Attacchiamo. Diventiamo. Ce ne teniamo in corpore. E poi diventiamo non solidi in questo momento. Tanto è indifferente. Perché usiamo due risorse. Per giocare. Sorpresa di Shadow Cat. Altro attacco. Va a zero Wood. Diventiamo anche incorpore. E Shadow Cat. Ha vinto contro Wood. Il mazzo di Shadow Cat è molto bello. Il suo set diciamo. La sua incorporeità. E solidità. Girano molto bene. Soprattutto se giochiamo a carte che. Riescono a farla passare velocemente. E la ripristinano molte volte. Come pronto ad arci dentro. Wood ha fatto. Ultimi due turni. Estremamente. Grossi. Ha messo un sacco di. Minacce in campo. Ma siamo riusciti comunque. Perché era già basso di vita. A sconfiggerlo. E' sempre bello giocare. Questo scenario. Con Wood. Perché. La. Variabilità. Che ti mette in campo. E' davvero davvero alta. Quindi. Adesso. Se avete domande. Dubbi. Perplessità. Ansie. E angosce. Commentate. 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 Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.